In due anni a Roma Capitale da dicembre 2022 a dicembre 2023 abbiamo assunto oltre 2700 persone. Lo abbiamo fatto essenzialmente per contrastare la cosiddetta fuga dalla pubblica amministrazione che riguarda in particolare Roma Capitale perché Roma Capitale ha sul suo territorio la concorrenza di tutte le pubbliche amministrazioni nazionali e di grandi enti come l'Inps, l'INAIL, il CONI ed altri ancora. Siamo riusciti tutti e due gli anni a chiudere con un leggero incremento di personale ma a fronte di 2700 assunzioni abbiamo avuto circa 2500 uscite quindi il grande sforzo di risorse, di organizzazione è stato praticamente vanificato. In alcuni settori come il settore tecnico e il settore amministrativo questa dinamica è maggiormente critica perché a Roma Capitale ci sarebbe bisogno di 31.000 dipendenti dall'ultima pianta organica e oggi ce ne sono 22.000 per i 10 anni di blocco del turnover, per le riforme che hanno facilitato i pensionamenti e anche per il fatto che Roma Capitale ha digitalizzato poco in questi 10-15 anni. Le cose vanno un pochino meglio perché si era scesi addirittura sotto i 21.500 dipendenti ma la criticità è oggettiva e serve oltre che gli sforzi di Roma Capitale un intervento serio del Governo nazionale per più fondi a Roma Capitale e per deroghe normative perché per la legge attuale non potremmo comunque assumere quanto c'è bisogno. Sempre per contrastare l'uscita di personale non per motivi di pensionamenti ma per andare ad altre pubbliche amministrazioni abbiamo approvato in via definitiva a dicembre 2023 un contratto integrativo dei dipendenti di Roma Capitale che migliora la situazione di tutto il personale di tutte e 22.000 dipendenti e in maniera mirata di chi svolge lavori a contatto col pubblico di chi fa i notturni, di chi deve assicurare la continuità didattica e pedagogica nelle nostre scuole. Non solo, per la prima volta dopo 15 anni abbiamo fatto le nuove progressioni verticali dando la possibilità di valorizzazione alle professionalità interne. Sono in conclusione, hanno riguardato 2055 persone, in gran parte si tratta di persone che da istruttori diventano funzionari e che da marzo, a conclusione appunto delle progressioni stesse verranno redistribuite dentro l'amministrazione. Elementi di potenziamento dell'amministrazione, di valorizzazione del personale che fanno ancora però i conti con le mancanze storiche di cui abbiamo accennato prima. Abbiamo appena pubblicato pochi giorni fa la graduatoria per il concorso che doterà a Roma ulteriori 800 agenti di polizia locale che verranno assunti dopo la pubblicazione della graduatoria a partire dal mese di aprile. È stato un concorso lampo. Abbiamo cominciato a luglio, si sono svolte quattro prove, si è partiti da 25.000 candidati e abbiamo concluso tutto a gennaio, quindi in sette mesi. In questo grande lavoro svolto dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ci sono stati non solo gli 800 vincitori ma avremo una lista di quasi 2.000 idonei aggiuntiva che ci consentirà nel momento in cui avremo risorse e deroghe normative di prendere altri vigili perché soprattutto in vista del giubileo ma anche per l'ordinario per assicurare maggior attenzione alla sicurezza stradale e al presidio del territorio servirebbero ancora almeno un migliaio di agenti. Ci tengo a sottolineare una novità per Roma Capitale. Da pochi giorni è attiva sul portale istituzionale la rete della cittadinanza attiva e delle reti civiche di Roma Capitale. Un strumento fortemente voluto dalla Giunta Gualtieri per dare visibilità e riconoscibilità alle organizzazioni sociali, tutte, da quelle più strutturate ai comitati informali che di solito diventano invisibili alle politiche cittadine. Sarà possibile iscriversi sul portale, è possibile iscriversi sul portale con pochissimi passaggi, in maniera molto semplice è possibile consultare il portale per vedere altre realtà che fanno cose complementari. In questa relazione si potranno sviluppare con Roma Capitale e tra associazionismo forme di partenariato, dico programmazione, dico progettazione, in maniera più veloce di come non fatto in passato. Un bel passo in avanti per una città che ha già da mettere a frutto il nuovo regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni, che insieme alla rete civica mette di fatto nuovi strumenti a disposizione della cittadinanza attiva e delle reti civiche romane. Non ci sarà la possibilità di dare continuità all'utilizzo dei grandi eventi per rilanciare lo sviluppo di Roma, perché la partita per l'Expo, malgrado l'impegno della città, non è andata a buon fine. Malgrado ciò abbiamo davanti una stagione importantissima di cantierizzazioni già in corso e di altre che ne verranno, quelle legate al Piano Nazionale di Riprese e di Resilienza e quelle legate al Giubileo che dal primo gennaio 25 prenderà il via. È importante utilizzare queste leve per fare in modo che la città si attrezzi, i primi cantieri stanno partendo, non ci sono ritardi significativi se non in alcuni casi specifici. È anche importante sottolineare come questi finanziamenti e questi investimenti, quelli del PNRR ma anche quelli del Giubileo, siano stati in gran parte dirottati di lontano dal centro, per interventi verso le periferie di Roma, intorno al raccordo anulare e oltre al grande raccordo anulare. Pensiamo ai piani urbani integrati, ai progetti Pinqua per la qualità dell'abitare, che vanno a incidere su contesti complessi come Torbella Monaca, come il Santa Maria della Pietà, come il Prima Valle, come Corviale e ancora vanno ad attaccare alcune situazioni complesse in cui bisogna rafforzare lo spirito di comunità, oltre che intervenire sulle case popolari piuttosto che altri strumenti di fisicità, di corpo, di oggetti della città. Su questo terreno Roma sta puntando molto, bisogna tenere insieme lo sviluppo generale della città, anche utilizzando i grandi eventi, con la questione sociale e con il contrasto delle disuguaglianze sociali crescenti, che crescono appunto soprattutto nelle aree esterne di Roma. Le due cose viaggiano allo stesso modo, sono due priorità della Giunta Gualtieri. Tanto è stato fatto, ma soprattutto tanto è stato seminato e nei prossimi anni dovremo riuscire a ridurre, ad accorciare le distanze, per dirla con un'espressione dell'ex sindaco Petroselli.